ciao a tutto il pubblico di radio sherwood e benvenuti a un'altra uggiosa giornata qui a sherwood festival 2022 ora è il momento dell'intervista una delle tante che abbiamo proposto e proporremo ai vari artisti che si esibiranno poi sui nostri due palchi la sera e quindi ho il piacere di presentarvi margherita vicario ciao ciao a tutti ma intanto come va come stai bene benissimo carica veramente approdata sherwood grande festival si si ho sempre sentito parlare un soundcheck sotto la pioggia però bello figo ci sta bene partire con la prima domanda tu sei un artista interdisciplinare ti occupi hai un sacco di attività tra tra il cinema il teatro oltre la musica poi non so anche se ti occupi di produzione musicale credo di sì non so neanche accendere il computer va benissimo e ti volevo chiedere come questa tua iperattività influenza la tua musica direttamente forse ma odio un po la influenza nel bene e nel male per esempio a volte potrei fare molto più musica di quella che faccio penso ogni tanto però col fatto che sono anche impegnata su altre cose poi alla fine tendo poi a pubblicare ottenere solo le cose migliori che da una parte quindi insomma positivo e negativo sicuramente influenza molto nell'influenza della mia musica le mie le mie radici attoriali ho fatto l'accademia ho studiato da attrice e anche questa multidisciplinarietà come hai detto tu è un po una caratteristica della natura dell'attore che comunque bene o male per necessità no fa veste diversi ruoli e quindi noi in questo un po l'iperattività ma poi in realtà sono la persona più pigra d'italia però mi piace molto darmi da fare su queste cose quindi sembro una iperattiva beh io non faccio neanche teatro e sono pigro quindi sto peggio di te in questo senso dato che tu hai parlato comunque che fai uscire un po quello che ritieni meglio vorrei parlare del tuo ultimo single ormai uscito un mese fa onde che io definirei un po una it estiva a modo tuo comunque super grooveggiante con toni satirici sempre umoristici e mi chiedevo le tue delle tue canzoni che sono un po più it nel senso più ballabili magari già questa uscita d'estate quindi ci sta anche magari definirla it estiva sono canzoni che nascono con l'obiettivo di fare qualcosa di dai facciamo qualcosa per far ballare la gente oppure fai la canzone e pensi ma sì dai potrei farla uscire come singolo e puntarci qualcosa di più beh allora con il produttore con cui lavoro ultimamente che è Dade Davide Pavanello è un po difficile non non arrivare poi a un qualcosa di ballabile può essere anche la canzone più impegnata e seria del mondo ma il beat sotto comunque sarà un po andante nello specifico le due canzoni che ho fatto diciamo proprio il sottopancia diceva canzone estiva nello specifico sono pignacolada e onde sono proprio invece di tentativi di singoli estivi perché uno può diciamo andare per conto suo quanto gli pare però la realtà intorno a te ti dimostra che bisogna no cercare anche di entrare nel sistema ovviamente mantenendo la propria identità però provare a entrarci ed esiste un sistema proprio di vite estive lo sai bene lo sapete tutti e quindi niente questo è il mio umile tentativo di come dire coprire anche questa parte dell'anno e quindi alcune volte sono assolutamente con l'intento di essere comunque molto orecchiabili ciao margarita ciao io volevo chiederti nella tua musica attribuisci molta importanza ai testi delle canzoni facendole a volte sembrare dichiarazioni puramente politiche vi riferisco per esempio al razzismo intrinseco alla violenza contro le donne e ai bus indivisa quindi volevo chiederti quanto è importante per te parlare apertamente della situazione sociale dell'italia di oggi guarda è proprio una domanda che cade a fagiolo perché proprio stamattina dicevo è incredibile che le mie canzoni se volessi potrei anche introdurle tipo rango tango potrei introdurla e contestualizzarla anche con quello che sta succedendo in america oppure Mandela con la tragedia che è successa a Melilla qualche giorno fa insomma sono delle canzoni in effetti che prestano sempre il fianco e ultimamente stavo lasciando parlare un po' loro e basta invece proprio oggi mi è venuta voglia ho detto oggi allo Sherwood faccio proprio cioè sottolineo magari il fatto che le canzoni possono essere un modo ognuno ha il suo però bisogna provare a bisogna comunque accorgersi di queste cose che ci succedono intorno e so che hanno un loro peso politico ma tendo ultimamente insomma è anche giusto così perché sono canzoni pop tendo a lasciarlo solo nelle parole invece ogni tanto credo che bisogna anche prendere il microfono sul palco perché non sono molto non sono una tipa da statement preferisco farlo con i versi nelle canzoni però ogni tanto prendere il microfono e dire insomma qualcosa di anche un po' più contestualizzato magari ci sta perché stiamo attraversando delle cose brutte insomma anche lo use call insomma se uno si guarda intorno sull'attualità ogni giorno ce n'è una peggio dell'altra grazie e da una altra parte volevo chiederti in base alla tua esperienza come definiresti la situazione attuale di una donna nell'industria musicale italiana e si pensi che le artiste siano ancora inquadrate nel ruolo di cantanti e non veramente rispettate come creatrizi o compositrizi dei loro progetti no penso che ci sia ci sia stato negli ultimi anni sicuramente un passo in avanti ma lo penso anche perché so di farne parte molto spesso ancora a me mi chiedono ma le scrivi te e uno dice ma guarda e chi le scrive se no nel senso ancora uno no si gli viene il dubbio che magari una ragazza riesca e quindi aspetta come era come collochi la situazione della donna nell'industria musicale sicuramente stiamo andando sempre meglio perché più esempi ci sono e più musiciste e cantautrici si sentono di essere come dire rappresentate c'è questo grosso tema della rappresentabilità io penso fermamente che ancora ci sia un problema sia nell'industria ma anche in tutte le persone che girano intorno alla musica perché per esempio è come se ci fosse una distinzione tra musica da femmina e musica da uomini questa cosa a me un po' mi raccapriccia perché se uno per esempio viene ai miei concerti si rende conto che non ci sono solo ragazze manco per niente e comunque no la situazione è ancora un po' vabbè ma in tutte le arti ci sono meno donne capo progetto in America un po' meno perché il pop poi si sa va fatto con molto impegno e le donne si mettono molto impegno in quello che fanno però anche tanti uomini e non lo so sarebbero risposte lunghissime quindi mi fermo qui comunque è meglio di quando ho iniziato nove anni fa meglio anche degli ultimi quattro anni bene grazie ti farei l'ultima domanda se posso il tema che abbiamo scelto come filone per le domande che faremo a tutti gli artisti che si esibiscono qua è quello dell'indipendenza e ti volevo chiedere nella tua carriera in cui hai avuto l'occasione anche di provare differenti etichette quanto è importante per te il concetto e come è cambiato nel tempo la tua situazione la tua libertà magari se c'è una differenza beh allora nello specifico io ho avuto un enorme privilegio perché sono stata battezzata da fiori rari già il titolo in quanto a libertà e indipendenza e il titolo dell'etichetta ti può dare un'idea un'etichetta minuscola più che indipendente proprio una candelina di indipendenza che si chiama fiori rari e il mio privilegio è che Bob Angelini il mio primo album che si chiamava Minimal Musical mi ha proprio fatto fare cioè non mi ha neanche dato un consiglio su come secondo lui una struttura di una canzone dove poteva essere migliorata cioè mi ha detto proprio tutto quello che scrivi ha la dignità di anzi io devo solo produrlo e portarlo no mettertelo su un disco quindi ho avuto un grosso imprinting di proprio di libertà espressiva no sono come dire da subito sono stata sulle mie gambe perché anche il fatto che fossero canzoni un po' strane con strutture un po' senza ritornelli e quello mi ha dato una bella come dire una bella impronta è ovvio che ora ho iniziato a lavorare anche con un produttore io per esempio prima scrivevo tutto sia musica che parole adesso io lavoro un po' più all'americana quindi ho un producer a volte si parte dai miei piene voce a volte si parte dai beat che poi io cambio insomma si lavorano però insomma l'indie vabbè non esiste non esiste praticamente più ma perché non ci sono ci sono molti meno anche luoghi dove si possono possono andare a suonare a parte la pandemia ma ancora prima della pandemia un po' i luoghi della musica dal vivo stavano già facendo un po' fatica poi la pandemia ha dato proprio la botta finale e invece vengo da un po' vengo dalla proprio gavettissima tre volte a settimana andavo a suonare almeno due pezzi nei locali dove c'era l'open mic ora la libertà ancora la mantengo ma vanno fatti i compromessi sono sfumature diverse però dal punto di vista autoriale la penna è sempre la stessa solo che sarebbe una follia non guardarsi intorno e non cercare di far funzionare le cose e anche molto sbatterse per carità però c'è uguale libertà solo che adesso è una libertà condivisa con qualcun altro quindi c'è un po' più di patteggiamento come dire però la libertà c'è sempre va bene ma la montate questa intervista perché io faccio delle frasi lunghissime tagliate qualcosa non mi assumo nessuna responsabilità va bene grazie a voi buon concerto a tutti e anche a te grazie mille ciao 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 Grazie a tutti.